L'AdWare Experience credo che sia uno degli eventi più specialistici nel panorama di tutti quelli italiani e internazionali. È uno dei migliori eventi di PPC in Europa, se non del mondo. È la Champions League degli inserzionisti. È una grande opportunità di imparare le nuove migliori in digital marketing. Ed è un momento secondo di formazione unico in Italia. Sia ad esperti per rimanere sempre in linea con il presente che a nuove leve per apprendere già da chi avanti. Mi piace perché c'è una migliore migliore di persone. Le risposte sono grandi, Gianpaolo fa un grande lavoro di scegliere dei buoni parlanti. Il contenuto è proprio fantastico. La qualità dei suoi 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 suoi. Nel anno devo dire che c'è una platea di suoi 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 suoi. Una verticalizzazione incredibile. Formazione, valore e network. E crescita personale. La cosa interessante di questo evento è che hai il compagno di insegnamento di insegnamento e anche la motivazione e l'inspiration di attenzione. Il nostro cliente potrebbe essere diverso, i business modelli potrebbero essere diverso, i prodotti che noi vendiamo potrebbero essere diverso, ma tutti facevamo simile problemi e la trasformazione di questo luogo, questo mercato, e è stato davvero bello ascoltare come tutti si è approcciato, e sicuramente mi prendo molto a tutti i Stati Uniti con me da questa esperienza.